La stagione con il maestro Mutio è un motivo di grande orgoglio, gratitudine per il maestro, tante autorità qui presenti, segno che questo è un teatro che ha una prospettiva internazionale, più antino Europa e conosce ancora di più come la cultura sia sempre di più l'arma di riscatto della nostra teoria. E' rilanciato l'idea dell'acquisizione del teatro San Carlo, qual è l'obiettivo del turmino? Ma questo è l'obiettivo di un tavolo che va avanti da tempo con lo Stato, perché l'obiettivo strategico è quello che il patrimonio storico, monumentale, dei gioielli del nostro paese abbiano un legame sempre più organico col proprio popolo e con gli enti locali, quindi stiamo andando avanti in questa rilezione proprio per valorizzare il patrimonio immobiliare della nostra città, il teatro è il teatro di Napoli, è il teatro del suo popolo e della storia di questa città più antica d'Europa, dai Borboni ad oggi è giusto che ci sia questo legame così forte.